ciao amici ciao amiche benvenuti in nuovo vlog flash allora siamo arrivati nella nuova meta stasera scoprirete dove siamo esattamente non vi faccio spoiler infatti vedete qua dietro di me bianco quindi non sapete dove siamo perché ci siamo cosa facciamo non si può usare google niente adesso andiamo a fare un girettino poi devo portare mia moglie in un posto dove desidero io e che però lo vedrete proprio nel vlog quel posto lino e niente ragazzi io sono emozionato per questa nuova vacanza anche se devo dire una cosa è che viaggiare tanto dopo un po stanca però finché si può lo si fa bene ragazzi ci vediamo con un prossimo ciao